5 continua alla villa francalanza continuava la vita allegra tutte le sere conversazione e gioco raimondo era adesso il più assiduo alla tavola verde quando egli prendeva le carte le poste aumentavano il rischio cresceva molti s'alzavano intendendo svagarsi e non lasciarvi la borsa la principessa di roccasciano invece non chiedeva di meglio molte volte restava sola col conte a far la bazzica da 12 tarì si nascondeva dal marito il quale come tutti i parsimoniosi biasimava ogni specie di gioco amici compiacenti stavano alle vedette per farle un segno appena egli si avvicinava allora e lei il suo complice facevano sparire i gettoni interrompevano la partita e si lasciavano sorprendere intenti a una scopa innocente raimondo ci si spassava incitava la principessa al gioco forte la tirava in una stanza fuori mano dove restavano più a lungo a contendersi i quattrini mettendo poi in mezzo con l'aiuto di tutta la società il principe sospettoso matilde sorridendo anche lei di quelle scene da commedia giudicava tuttavia che suo marito facesse male a fomentare così il vizio della principessa ma non le bastava il cuore di rimproverarlo tanto la rinata fiducia la faceva indulgente purché egli non la tradisse che le importava del resto tra le signore che venivano alla villa raimondo pareva non apprezzarne alcuna stava poco in loro compagnia si dava tutto al gioco il giorno al casino la sera in casa nonché biasimarlo pertanto ella avrebbe quasi voluto spingerlo in quella via che lo distoglieva da un'altra infinitamente più dolorosa il cuor suo lo avrebbe voluto senza nessun vizio solo amante di lei della famiglia della casa ma lo prendeva come era anzi come lo avevano fatto già che ella addevitava quel che trovava in lui di men bello alla soverchia indulgenza al cieco amore della madre lontano dalle carte raimondo s'annoiava se non poteva combinare una buona partita smaniava contro la noia di quel villaggio contro la conversazione dei villani contro gli stupidi divertimenti della tombola e delle gite sugli asini e la poteva dirgli con chi te ne lagni non volesti venirci tu stesso però taceva affinché egli non prendesse quelle parole come un rimprovero invece vedendolo di cattivo umore gli domandava dolcemente che avesse oh che mi secco non lo sai le rispondeva che vuoi farci quando il colera cesserà torneremo a firenze perché non vai al casino egli non se lo faceva ripetere a poco a poco il gioco diveniva indiavolato nel giro di poche ore facevano differenze di centinaia donze nessuno in casa diceva nulla al raimondo il principe già più alla mano con tutti pareva studiarsi di non pesare per nulla sul fratello un giorno questi poiché da milazzo per via del colera tardavano a mandargli i denari gli chiese in conto delle rendite ereditate qualche centinaio donze il principe mise la propria cassa a sua disposizione egli tornò ad attingervi a più riprese naturalmente se il colera non finiva non si poteva far nulla per la sistemazione dell'eredità non di meno il principe ne parlava adesso direttamente al coerede gli comunicava i propri disegni avevano dato a intendere ai legatari che erano stati trattati male dalla madre ma la dimostrazione del contrario sarebbe stata facile e pronta già né ferdinando né chiara davano ascolto ai subillatori la stessa lucrezia si sarebbe subito convinta del proprio torto quindi per amore della pace per mettere in chiaro ogni cosa quantunque avessero ancora tanto tempo a pagare le sorelle non era meglio togliersi al più presto quel peso di sulle spalle avrebbero fatto un poco di economia per raccogliere le 16.000 onze occorrenti giacché se lucrezia doveva averne 10.000 a chiara ne toccavano soltanto 6 dovendosi sottrarre le quattro da lei avute nel maritarsi prima però bisognava pagare i creditori metter tutto in pulito frattanto per guadagnar tempo potevano intendersi loro due circa la divisione e a nessuno di quei ragionamenti del fratello raimondo trovava nulla da obiettare va bene va bene era la sua risposta in mezzo a questa pace piombò bel giorno don blasco da nicolosi a cavallo a un gigantesco asino della pantelleria scappato con tutto il convento il monaco non aveva messo fuori neppure il naso nelle prime settimane per paura di prendere il colera con l'aria che respirava ma visto che per la campagna prosperavano uomini e bestie rassicuratosi sul pericolo del contagio udito finalmente che al bel vedere facevano baldoria non stette più alle mosse arrivò lì fra colazione e desinare annunziandosi con grandi vociate perché nessuno gli apriva il cancello visto poi il principino che gli veniva incontro con una bacchetta in mano la quale spaventava la cavalcatura gridò al ragazzo come se volesse mangiarselo vuoi star fermo che il diavolo ti porti entrò finalmente nella villa esclamando non c'è nessuno qui dentro che stillate al principe che voleva baciargli la mano spiattellò lascia stare queste smorfie e senza salutar nessuno lo prese per il bottone dell'abito lo trasse in disparte e gli domandò a bruciapelo è vero che tuo fratello si gioca la camicia che ha indosso com'è che puoi permettere una cosa simile vostra eccellenza non conoscerai mondo rispose il principe stringendosi nelle spalle chi può dirgli nulla provi vostra eccellenza a dissuaderlo io a io a me importa un mazzo di cavoli di lui e degli altri questo è il frutto dell'educazione che gli hanno data e quell'altra buona nulla di sua moglie tutto il giorno a grattarsi la pancia piena e tua sorella e quei pazzi e tuo figlio non risparmiò nessuno i discorsi di chiara e del marchese relativi al corredo del nascituro gli fecero montare la mosca al naso le notizie dei giulente lo investialirono ma quel che gli fece perdere il lume degli occhi fu la lettura del giornale di catania portato dal principe di roccasciano nel pomeriggio quando cominciarono a venire le prime visite subito dopo il bollettino del colera si leggeva in quel foglio la generosità dei nostri cospicui patrizi non poteva mancare in tempi tanto calamitosi di venire in soccorso della sventura l'illustrissimo don caspare usè da duca d'oragua benché lontano dai suoi concittadini pure ha fatto tenere al nostro senato la somma di ducati 100 da distribuirsi in soccorso dei più bisognosi cento ducati buttati via per soccorrere i bisognosi dite piuttosto per fregola di popolarità cento ducati buttati a mare quasi che quella bestia avesse molto da scialare a furia di largizioni un bel giorno avrebbe battuto il capo sul lastrone come meritava la sua sciocchezza bestia bestione tre volte bestionaccio il monaco era talmente fuori della grazia di dio che quando roccasciano gli chiese notizie di suo nipote don lodovico si voltò come una furia di che nipote mandate nipotando non li conosco li rinnego tutti quanti e preso anche quest'altro per il bottone della giacca gli gridò all'orecchio vedete un po quel che fanno non sono tre mesi che han perduta la madre intanto se la spassano senza un riguardo al mondo qualche giorno dopo ci fu la visita del priore arrivò in carrozza riposato e sereno salutò ed abbracciò tutti volle entrare nella camera dove era aspirata la principessa parlò della pestilenza attribuendola al corruccio del signore per le nequizie dei tempi tutti lagnavansi dell'ostinata siccità perché in tre mesi di torri da estate non era caduta una goccia d'acqua egli riferì d'aver disposto un triduo a nicolosi e una processione per impetrare la pioggia altrettanto consigliò che facessero al bel vedere non bisogna stancarsi di pregare l'altissimo solo la preghiera e la penitenza potranno indurre la divina clemenza a perdonare i peccatori poi annunziò che la cugina radali gli aveva scritto per avvertirlo che appena cessato il colera voleva mettere il secondo genito giovannino al noviziato provvedimento lodevole poiché col marito in quello stato la povera duchessa non poteva badare all'educazione di entrambi i figlioli il principe disse che anche egli forse avrebbe fatto altrettanto per consalvo la principessa che non gli sguardi a terra non osando replicare ma non potendo soffrire di essere divisa dal suo bambino così zio e nipote tornarono a venire soli in giorni diversi incapaci di stare insieme come cani e gatti però tutti riconoscevano che la colpa era di don blasco don lodovico con la sua natura veramente angelica non avrebbe chiesto di meglio che far la pace quell'altro invece non gli perdonava ancora l'assunzione al priorato comunque la scissura era dispiacevole gli amici di casa i frequentatori del convento ne parlavano con dolore non ne parlava affatto fra carmelo il quale venne anche egli a far visita alla principessa ed a portarle le prime nocciole e le prime castagne non voleva parlare dell'animistà tra zio e nipote per amore della buona fama del convento per rispetto ai padri che a suo giudizio erano tutti buoni e bravi ugualmente ma in modo particolare per la venerazione che portava ai due uzzeda quei suoi sentimenti comprendevano tutta la parentela quando la principessa in cambio della frutta che egli recava gli faceva prestare uno spuntino il frate sparecchiando rapidamente esaltava la nobile casata casata di signoroni come ce n'eran pochi e la principessa gli voleva bene pel bene che egli dimostrava al piccolo consalvo per le carezze che gli faceva per gli speciali regalucci che li portava singolarmente perché narrandogli il noviziato degli zii don lodovico e don blasco gli diceva ce ne stati tanti degli uzzeda a san nicola ma vostra eccellenza non l'avremo vostra eccellenza è figliuolo unico e non lo metteranno certamente al monastero tutti i parenti invece tranne chiara che se avesse avuto un figliuolo se lo sarebbe cucito alla gonna erano dell'opinione del principe che per l'educazione e l'istruzione del ragazzo convenisse mandarlo fuori di casa don blasco specialmente alle monellate del pronipote all'indulgenza della principessa vociava ma come cresce cotesto squassa forche che educazione è questa qui donna ferdinanda quantunque giudicasse soverchia ogni istruzione pure riconosceva anche lei che mettere il ragazzo in un nobile istituto sarebbe stato secondo le tradizioni della casa tanto il collegio cutelli quanto il noviziato benedettino avevano visto molti di quegli antenati di cui ella leggeva e spiegava al nipotino la storia quando consalvo era stanco di molestare le persone e le bestie se ne veniva infatti dalla zitellona e le diceva zia vediamo gli stemmi gli stemmi erano l'opera del mugnos illustrata con le armi delle famiglie di cui il testo ragionava e donna ferdinanda passava intere giornate leggendola e commentandola al nipotino gli aveva già fatto un piccolo corso di grammatica araldica spiegandogli che cosa volesse dire scudo partito e diviso inquartato e soprattutto mettendo il dito adunco sul rame che rappresentava quello di casa uzeda gliene faceva ogni volta la descrizione perché la mandasse a memoria inquartato al primo e al quarto partito d'oro all'aquila nera linguata e armata di rosso effusato d'azzurro e d'argento al secondo e al terzo diviso d'azzurro alla cometa d'argento e di nero al capriolo d'oro sopra il tutto d'oro con quattro pali rossi che è d'aragona lo scudo contornato da sei bandiere d'alleanza poi gliene spiegava la formazione la cometa voleva dire chiarezza di fama e di gloria il capriolo rappresentava gli sproni del cavaliere lo stemma piccolo in mezzo al grande era quello dei re aragonesi gli uzeda lo avevano ottenuto a poco a poco non tutto in una volta il primo palo al tempo di don blasco secondo servendo egli la zitellona leggeva nel suo testo all'invito re don jaime nella guerra che ebbe col conti uguetto di narbona e quei mori nell'acquisto di maiorca non ebbe remunerazione veruna per il che ritiratosi dal real servigio se ne andò coi suoi al suo stato e tivi vedendo che il re mandava una grossa somma di denari alla reina conducendo cavalieri suoi vassalli in un celato passo si pose e taguatando i real carriaggi gli tolse i denari e quanto di sopra portavano mandando a dire al re che era lui obbligato di pagar prima i servigi personali e dopo soddisfar gli appetiti della reina ma sdegnatosi di queste azioni il re mosse contra di blasco grave guerra che per l'interposizione di molti baroni piacevolmente si distaccò ed ottenne la baronia di almeira nonché potestà di poter imporre alle sue arme un palo rosso d'aragona la zitellona gongolava leggendo quella storia e dopo averla letta la ripeteva il nepotino con linguaggio meno fiorito perché egli ne intendesse meglio il senso bel re quello è che si faceva servire dei suoi baroni e poi non voleva dar loro niente ma la pensata di don blasco zeda non fu più bella ah non date niente a me che ho combattuto per voi e pensate invece a mandar regali alla regina aspettate che vi accomodo io la sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina e i suoi occhi furaci come quelli dell'antenato si infiammavano della secolare cupidigia della vecchia razza spagnuola dei vicere che avevano spogliato la sicilia e gli altri pali domandava il principino che pendeva dalle labbra della zia meglio che se gli raccontasse le fiabe di betta pelosa e della mamma draga la zitellona sfogliava rapidamente il libro e piombava sul passaggio cercato a cagion di ciò avvenne che il predetto gonzalo de useda essendo eccellente cacciatore fu invitato dal re carlo di andare a caccia nei boschi suoi il quale invito fu dal gonzalo accettato e mentre ognuno si procacciava e il re medesmo di seguire i daini cinghiali e lepri andò solo il re appresso un grosso cinghiale il quale astutamente si trattenne nel corso ma perché il cavallo del re furiosamente di sopra gli correva nel passar impedito da quello cascò con tutto il re in un fascio per terra il quale restò con una gamba di sotto di cavallo vedendo ciò il cinghiale si avventò sopra il re per ucciderlo il quale per non aversi potuto disbrigare si difendeva solamente con un pugnale e ne restava senz'altro morto sinonché avvedutosi da lunghe gonzalo del pericolo del suo re corse per soccorrerlo e dal primo incontro uccise il cinghiale e scendendo poi da cavallo l'aiutò poi a sorgere e il fe montar sopra il suo cavallo e tuttavia il re ringraziandolo e lodandolo il chiamò buon figlio per il che furono poi sempre i signori di uzzeta chiamati dai regi siciliani col titolo di consanguinei e portarono sovra l'arme l'arme regia di aragona con tutti i suoi poteri come in effetto al presente spiegano dicendo anche il cronista madrileno chi poteva più arrestare donna ferdinanda una volta cominciato ella non aveva un uditore più attento del ragazzo gli voleva bene appunto per questo giacché gli altri parenti le prestavano un orecchio distratto badavano le loro sciocchezze o lavoravano ad offuscar lo splendore della casa come quel volpone del duca amoreggiante coi repubblicani come quella pazza dalle gare di lucrezia che non voleva smetterla ad aspettare al balcone il passaggio del giulente solo fra tutti don e eugenio quando non lavorava alla memoria per disseppellire la nuova pompei assisteva alla lettura del mugnos citava altri storici della famiglia allora fratello e sorella passavano a rassegna il lungo ordine di avi recitavano la cronaca delle loro gesta il secolare sforzo per afferrare e mantenere la fortuna i tradimenti le ribellioni le prepotenze le liti continue che gli scrittori narravano velatamente e che essi magnificavano artale di uzeda giornalmente dal suo castello con i suoi armigeri uscendo signoreggiava tutto il paese giacomo vissuto al tempo del re lodovico dominò nicosia e ne fu alla perfine rimosso per i molti dazzi che impose don ferrante cognominato sconza che nel siculo idioma suona il medesimo che guasta perdè tutti i suoi feudi mercelli in obbedienza che usò col suo re ne ottenne quindi il perdono ma non per questo dimorò nella fedeltà poiché per sue cagioni si discostò di bel nuovo della regia obbedienza e preso e condannato a morte ebbe per grazia sovrana salva la testa don filippo fu celebrato per il valore che mostrò in favor del suo re don ferdinando contro al re di portogallo di maniera che essendo bandito della corte per cagion domicidio fu liberato e venne in grazia del suo re giacomo quinto perché aveva venduto suoi feudi a enrico di chiaramonte pretese poi recuperarli dal poter di quello e gli tentò lite don livio si delettò di vendicarsi acerbamente degli oltraggi che gli furono fatti eccetera eccetera questi erano per donna ferdinanda atti di valore e prove d'accortezza né gli uzzeda avevano litigato coi sovrani e coi rivali soltanto ma anche tra loro stessi don giuseppe nel 1684 si casò con donna al donza al carosso con la quale procreò a don giovanni e a don enrico che per la morte dei loro padri innanzi l'avo pretesero succederli negli stati di quello e litigarono lungo numero d'anni innanzi la regia corte don paolo ebbe lunghe criminose contese con suo padregno con salvo conte della venerata per la morte del padre fu spogliato dal suo zio e per aver repudiato l'infertile moglie combatté alcuni anni con suo cognato giacomo sesto cognominato sciarra che rissa nel tosco idioma diremmo non può che differenze ebbe col padre con salvo terzo cognominato testa di san giovanni battista dolorò la fellonia dei figli che seguirono federico conte di luna bastardo del re martino ma il più terribile di tutti fu il primo vicere il grande lopez ximenez che perdette l'animo dei suoi soggetti per i vizi di un figliuol naturale molto prepotente e disciolti costumi onde il padre avendolo trovato reo ed incorreggibile con somma severità lo condannò a morte sentenza che si sarebbe eseguita se il re don ferdinando che ritrovavasi in sicilia non avesse ordinato che non si effettuisse don eugenio di tanto in tanto per edificazione del ragazzo giudicava conveniente fare qualche dissertazione morale donna ferdinando invece lodava tutto ammirava tutto col tempo con l'esercizio del potere la razza battagliera erasi infiacchita il secondo vicere sfidato a duello da un barone ribelle non puose prudentemente orecchio all'invito che questo sconsigliato giovane aveva gli fatto la condotta dell'imbelle antenato per la zitellona era altrettanto lodevole quanto quella degli altri che avevano attaccato lite con tutti per niente ed a proposito di duelli dove lasciare il famoso decreto di lopez ximenez aveva mandato bandi sopra bandi narrava la zitellona al nepotino per proibire le sfide ma a chi diceva al muro non gli davano retta ah no allora fece una pensata aspettò il primo duello che fu tra rigo ventimiglia conte di geraci e pietro cardona conte di golisano e confiscò tutti i loro beni glieli tolse hai capito e chi se li prese tornavano al re spiegò don eugenio ma poi la faccenda s'accomodò ventimiglia se ne andò fuori regno e cardona regalò al vicere il suo castello della roccella per ottener perdono a furia di simili pensate il vicere venne però in uggia a tutto il mondo tanto che il parlamento mandò deputazioni in spagna perché il sovrano lo rimuvesse dal posto opera dei baroni invidiosi e birbanti a giudizio della zitellona ma lui più fino di loro che fece offrì al re un dono di 30.000 scudi e così restò al suo posto per poco però era naturale che non lo potessero soffrire giacché nessun altro aveva tanta potenza tanta ricchezza e tanta nobiltà c'erano stati prima molti altri governatori della sicilia che tenevano il luogo del re ma si chiamavano presidenti del regno ovvice re non proprietari e dovevano consultare sua maestà prima di eleggere qualcuno alle cariche di mastro giustiziere d'ammiraglio di gran siniscalco eccetera e non potevano dare feudi o burgenzatici che oltrepassassero la rendita di 11 200 castigliane né somme di denaro superiori a 2000 fiorini di firenze era loro ugualmente proibito di nominare i castellani di palermo catania mozia malta eccetera eccetera mentre l'uzeda esercitava lo stesso preciso potere del re potendo come diceva il re scritto emanar leggi durature a suo piacere condonare la pena di morte conferire dignità far tutto ciò che avrebbe fatto lo stesso re esercitare tutti gli atti riservati alla suprema regalia e dalla regia dignità ancorché avessero ricercato un mandato speciale o specialissimo chi poteva dunque star loro a fronte che avevano da invidiare alle famiglie più nobili di napoli e di spagna si gloriavano perfino ad una santa in cielo la beata ximena era vissuta tre secoli e mezzo addietro maritata dal padre per forza al conte guagliardetto terribile nemico di dio e degli uomini aveva ottenuto la conversione del colpevole e compiuto grandi miracoli in vita e dopo morte il suo corpo portentosamente salvato dalla corruzione conservavasi in una cappella della chiesa dei cappuccini e come sfogliando il volume per vedere gli altri stemmi quelli dei radali dei torriani il ragazzo domandava alla zia perché non c'era quello della zia palmi la zitellona rispondeva secco secco lo stampatore dimenticò di mettercelo ma è così suo padre che con una zappa in mano pianta un piede di palma verso la fine di settembre il colera crebbe di intensità il 25 il bollettino segnò 30 morti ma si diceva che fossero più e che gli infetti superassero il centinaio e che qualche caso sparso inquietasse le campagne ci fu una nuova scappata di gente la vigilanza al belvedere era continua perché non entrassero i fuggiti da luoghi sospetti contadini e cittadini armati di schioppi carabine e pistole facevano la guardia in tutte le vie che mettevano capo al paesello esercitando una specie di polizia arbitraria e inappellabile e poiché ad ogni passaggio di fuggiaschi avvenivano scene tra comiche e tragiche raimondo per vincere la noia essendo il gioco interrotto per quel nuovo spavento gironzava spesso per i posti di guardia un giorno saputosi che a mascali c'era gente ammalata di colera i carri e le carrozze provenienti di lì non furono lasciati passare mentre quelli del belvedere intimavano il dietro front con gli schioppi spianati e gli emigranti facevano valere le loro ragioni mostrando certificati pregando minacciando gridando raimondo che se la godeva sudì a un tratto chiamare don raimondo continuo continuo e guardatosi intorno vide due donne che dallo sportello di una polverosa carrozza gli facevano cenni disperati donna clorinda voi qui donna clorinda era la vedova del notaio limarra famosa per l'allegria dimostrata in gioventù ed ora nella maturità prossima al disfacimento per la bellezza della figliuola agatina la quale seguendo le orme della madre aveva civettato ragazza con tutti i giovanotti che le si erano stropicciati alle gonne maritata più tardi col patrocinatore galano li procurava clienti di ogni genere donna clorinda con un debole per i giovanotti nobili era stata più di dieci anni addietro la prima conquista di raimondo lasciata la madre egli aveva poi ruzzato con la figliuola ma senza molto profitto in verità perché costei uccellava al marito ammogliato egli stesso e andato via di sicilia le aveva perdute di vista adesso le due donne ed anche il marito che se ne stava rannicchiato più morto che vivo in fondo alla carrozza si mettevano sotto la sua protezione per ottenere un rifugio al belvedere grazie a lui le lasciarono entrare ma le difficoltà ricominciarono subito dopo giacché avendo i fuggiaschi invaso ogni buco non c'erano in paese altro che le stalle dove poter mettere nuova gente non di meno per donna clorinda e lagatina che incontravano un nuovo amico ad ogni piesso spinto tutto il belvedere si mise in moto finché trovarono loro due camerette terrene un poco fuori mano ma con un piccolo giardinetto appena stabilite ridussero una di quelle scatole a salottino da ricevere e cominciò subito l'andirivieni di tutta la colonia cittadina messa in rivoluzione da quell'arrivo donna clorinda che non s'arrendeva ancora dava udienza a tutti ma il posto accanto alla figliuola fu serbato a raimondo per la libertà che regnava in quella casa pel buon umore delle due donne anche i rimasti a bocca asciutta ci venivano a passare la sera meglio che al casino giocando ciarlando cantando e raimondo smessa la noia smessa la mutria non rincasava più si faceva ancora una volta aspettare lunghe lunghe ore dalla moglie triste ed inquieta per il rinnovato pericolo della pestilenza per i sospetti che quel repentino cambiamento rievocava accorata più tardi dalle allusioni con le quali donna ferdinanda il principe le stesse persone di servizio le rivelavano gli antichi amori del marito poteva ella credere alla nuova tresca con la figlia dell'antica amante non era questo un peccato mortale una mostruosità che la mente di lei rifiutavasi di concepire non doveva ella credere piuttosto che l'astio dei parenti contro raimondo in lei stessa ordisse l'accusa maligna bruscamente ritolta alla pace ella tornava a struggersi a lottare contro se stessa contro i sospetti che la riassalivano non appena scacciati a passar le lunghe notti autunnali tremando nell'attesa del ritorno di lui a piangere per gli sgarbi coi quali egli rispondeva alle sue inquietudini perché resti fuori così tardi ho paura per la tua salute non sono più libero di restare fuori quanto mi piace sei libero sì ma non andare in quella casa tra quella gente che tuo fratello si vergogna di ricevere dove vado tra quale gente io vado al casino vuoi anche spiarmi no ella gli credeva voleva e doveva credergli ma perché pesavano su lei gli sguardi tra ironici e compassionevoli di tutta la famiglia e della servitù perché il discorso moriva in bocca alle persone alle quali ella si avvicinava una notte dopo quattro mesi di siccità scoppiò un terribile temporale il cielo scuro fu solcato da saette lucenti come spade le strade si mutarono improvvisamente in fiumane limacciose la grandine strosciò sulle vetrate e sui tetti ella che aveva sperato di veder tornare raimondo ai primi accenni dell'uragano aspettava ancora tremante di paura non una voce non un rumore di passi il temporale cessò dopo un'ora raimondo non tornava ancora non gli altri maligni ma egli stesso era bugiardo e incestuoso poteva più dubitarne quella spudorata non l'aveva anche lei guardata arditamente in viso in atto di sfida quasi dicendole sono più bella di te perciò egli mi preferisce ed era vero la sua gelosia era tanto più umiliata quanto più ella riconosceva di non piacere a suo marito ora specialmente che la gravidanza inoltrata la disformava ma aveva egli veramente giurato di attentare alla vita dell'essere che ella portava in grembo infliggendo le torture sopra torture lasciandola così nella notte oscura e tempestosa con quello spasimo del peccato orribile del nuovo tradimento con l'anima piena di dolore e di vergogna e di spavento egli rincasò a mezzanotte fradicio intinto con gli abiti talmente fangosi come se si fosse rotolato nella mota maria santissima esclamò ella aggiungendo le mani come ti sei conciato così pioveva sei sorda non hai sentito l'acqua ma la pioggia è finita da un pezzo mi sono inzuppato prima gridò quasi egli ho da sentire anche te adesso improvvisamente ella ebbe conferma dei propri sospetti rispondeva così quando era colto in fallo replicava con le violenze alla ragione troncava la discussione coi gridi appoggiata la fronte a un vetro sul quale la nuova pioggia fine fine tirava umide righe e la si mise a piangere silenziosamente il bene che gli voleva l'obbedienza che gli prestava la devozione sommessa di cui gli dava prova ogni giorno non bastavano dunque tutto era inutile egli la sfuggiva la tradiva per chi e l'aveva costretta ad abbandonare la sua bambina e l'aveva esposta e rimproveri di suo padre per questo per questo un dolore sopra l'altro sempre sempre anche adesso che ella avrebbe dovuto essere sacra per lui perché i dolori potevano uccidere la creatura che stava per nascere la voce di raimondo rauca che chiamava il cameriere la strappò all'alba di lì si era messo a letto il ribrezzo della febbre gli faceva battere i denti allora ella asciugò le lacrime corse ad assisterlo per tre giorni non lasciò un momento il suo capezzale li fece da infermiera e da cameriera dimenticando la propria ambascia per il terrore che quel male degenerasse nella pestilenza influente restando sola presso di lui quando insospettiti nessuno della famiglia volle più entrarci tremavano all'idea del contagio avevano tutti paura di prenderlo raimondo più di tutti nonostante le risate confortative del dottore nonostante le assicurazioni di lei guarito dall'infreddatura egli non ebbe più nulla però non era ancora del tutto ristabilito che pretese andar fuori fallo per noi scongiurò matilte a mani giunte per nostra figlia non te esporre a un altro malanno non gli aveva detto nulla dei suoi sospetti per non irritarlo mentre era infermo ma ora gli buttava le braccia al collo gli diceva guardandolo negli occhi passandogli una mano sui capelli dove vuoi andare perché mi lasci resta con me voglio far due passi mi sento bene rispose solleticato da quelle carezze da quella sommessione di cane fedele li faremo insieme nella vigna non c'è bisogno di andar fuori se è vero che mi vuoi bene me sola e che non pensi ad altri a chi dovrei pensare esclamò raimondo con un sorriso fatuo di compiacimento a nessuna a nessuna a colei ma chi alla galano quel nome le bruciava le labbra io rispose con tono di protesta ma neanche per sogno vorrei un po' sapere chi ti mette in capo queste cose nessuno le temo io perché ti voglio bene perché sono gelosa egli rideva di tutto cuore rassicurandola ma no che ti salta in capo e poi la gatina una che è di tutti di chi la vuole è vero è vero allora perché ci vai ci vado perché mi diverto perché è come andare al caffè al circolo allora la sera che prendesti l'infreddatura mi inzuppai perché l'acqua mi colse alla ravanusa puoi domandarne se non mi credi sì ella gli avrebbe creduto se la dolcezza con cui la trattava non fosse stata nuova innegabile prova che aveva qualcosa da farsi perdonare ebbene che le importava se era per questo qualunque fosse il sentimento che gli dettava quelle parole e se erano buone la toglievano almeno per poco al suo cordoglio e con l'anima che riaprivasi alla speranza e la lo udiva proporle del resto ora che il colera sta per finire andremo via tutti quando avrò sistemato gli affari della divisione con giacomo ce ne torneremo a firenze ma per ora se vuoi faremo una corsa a milazzo partorirai a casa tua ti piace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti